Maestra Raffaella, benvenuta, ha ascoltato con noi questa intervista. Bellissima questa intervista, veramente sì. La storia del giovane Giorgio. Allora, vorremmo, ti do del tu, vorremmo parlare con te oggi proprio della tua esperienza di maestra, visto che l'abbiamo ricordato più volte, ieri è stata proprio la giornata mondiale dell'educazione. Per quanti anni hai insegnato e quali materie? Allora, ho insegnato per 38 anni, però ho 36 di contributi. Quali materie hai insegnato? Allora, all'inizio tutte le materie, ero maestra unica, quindi tutte le materie. E gli ultimi nove anni invece, con l'introduzione del modulo, ho insegnato lingua italiana, educazione all'immagine e religione. E col modulo, con quali altri maestri o maestri? Con altri due maestri, l'insegnante Pasquale Cascavilla e la marca Enrichetta. Poi c'era anche Giovanna Viscio, eravamo in quattro praticamente. Ed è stata anche una bella esperienza, anche se poi sono venute fuori, almeno per me, delle piccole cose che secondo me nel modulo non andavano bene, perché non c'era questa conoscenza da parte dell'alunna dell'interdisciplinarità delle diverse materie. Perché quando ero maestra unica io facevo tanti rapporti fra storia, italiano, geografia. Questo è venuto a mancare con l'introduzione dei moduli. Quindi, ma a prescindere da questo, era necessario pure fare una nuova legge con i moduli, perché la società si era talmente evoluta che i vecchi programmi non erano assolutamente più in grado di affrontare le nuove dinamiche della società. E poi, dopo questi nove anni, infatti, c'è stata ancora un'evoluzione fatta molto bene del maestro unico, con degli altri aiutanti, diciamo. Certo. E quello è stato per me un giusto evolversi della programmazione didattica. Maestra Raffaella, il tuo primo giorno di scuola? Il mio primo giorno di scuola? Da insegnante. Da insegnante. Questo è bellissimo, perché io praticamente ho fatto il primo giorno di scuola a 19 anni, come però supplende. Perché avevo fatto il congorso a 18 anni, avevo partecipato al primo congorso. Allora facevano i congorsi, venivano indetti ogni due anni i congorsi magistrali. Posso chiedere, correva l'anno? No, l'anno non me lo ricordo, sono nata nel 43, 19 anni dopo, fatevi voglio conto. Ok, perfetto. Allora, sono andata in una... ho superato il congorso senza vingerlo, sicché sono andata avanti nella graduatoria. E come supplende ho avuto subito un mese di supplende in una quinta elementare femminile, perché allora erano soltanto o maschili o femminili le classi. Non erano ancora classimiste. Sicché sono entrata in questa classe a 19 anni, ero una ragazzina propria, piena di curiosità più che di entusiasmo. Mi sono trovata davanti 33 bambine, alcune delle quali ripetenti, quindi erano soltanto 5 o 6 anni più piccole di me, che appena sono entrate mi hanno squadrato dalla testa ai piedi, con grande inderesse. Io ho fatto dire la preghiera, appena ho finito la preghiera ho fatto l'appello, come si usava. Loro si sono guardate in genere, appena ho finito di fare l'appello sono piombate tutta addosso a me, mi accarezzavano, mi toccavano. Io ho detto no, 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 bambine così non va bene, andate ai vostri posti. Ho iniziato così, a fare scuola e non sapevo manco da dove si potesse cominciare, perché non c'era, né tirocini, niente. Proprio ero a così, a completo digiuno di tutto. Però poi prendete il libro di lettura, prendete il sussidiario, piano piano, 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 piano ho iniziato così. Quindi praticamente è stato un amore a prima vista, perché queste bambine qui sono risultate per me affettosissime. Quando sono tornata a casa mio padre, che a sua volta era stato maestro, ha detto, beh com'è andata la cosa? Ho detto, babbo io voglio fare la maestra, perché prima non pensavo, dicendo andrò all'università, poi mi laureerò in lettere, perché quella era la mia passione, italiano, latino e storia, erano le mie materie preferite. Non pensavo minimamente di rimanere nella scuola elementare, di che tanto dopo andrò a laurearmi. Ho detto, babbo io voglio fare la maestra, perché mi piace moltissimo. E' stato un amore a prima vista. La seconda, la seconda supplenza invece, è stata in una prima elementare, quindi proprio un balzo. Sono andrata in questa, e ho visto anche là una trendina di bambinette piccole, bellissime, che io le ho amate immediatamente. Mi ricordo sempre il fatto che dopo due o tre giorni di scuola, loro piano piano mi portavano i regalini, che erano piccoli oggettini della pupa, della vecchia bambolina. Forchettine, piccole pendoline, giocattoline, con un affetto, una cosa straordinaria. Così è iniziata la mia vita di scuola. La maestra è sempre stata una seconda mamma. Veramente, io poi ho amato molto il mio lavoro, veramente l'ho amato molto, 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 molto. Immagino. Maestra Raffaella, resti con noi, perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Noi dobbiamo fermarci, andare in pubblicità, per poi tornare di nuovo insieme con la storia e l'esperienza della maestra Raffaella Melchionda. Questa mattina stiamo parlando di scuola, di educazione, anche grazie ai ricordi e all'esperienza della maestra Raffaella Melchionda. Maestra, abbiamo delle foto, perché siamo andati a scavare nei cassetti dei ricordi. Abbiamo chiesto anche aiuto a qualche gancio, come si dice in gergo, foto che la ritraggono con alcune delle sue classi. Eccole qua. Che bello, vediamo un po'. Si ricorda, beh sicuramente, forse si può ricordare, anche i nomi di molti. Sì, 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 Enrichetta Lamarca, dove sto io? Eccola qui. Eccola, sì, 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 sì. Qual è l'insegnamento di vita più grande, maestra, che non ha fatto mai mancare i suoi studenti? L'educazione ha i valori fondamentali della vita, poi al rispetto, all'amore verso il prossimo, all'accoglienza, ad amare, ad amare la natura, ad osservarla proprio come dicevano i programmi di una volta, non so più, all'ammirazione del creato. Che bello. E non solo. Poi, come diceva anche il maestro Russo, educare alla bellezza. Io attraverso le opere d'arte, mostravo loro molto spesso opere d'arte, opere d'arte. Poi c'erano dei filmini a scuola, proiettavo spesso dei filmini sulla natura, sui viaggi, queste cose che appassionano tuttora me e quindi ho cercato di trasmetterlo pure a loro. E infatti, parecchie volte, ancora oggi, mi incontrano e mi dicono questo fatto, maestra, noi vi ringraziamo molto perché ci avete fatto amare i viaggi e la natura. Me lo dicono proprio. Lei è una grande amante di viaggi. Molto, moltissimo, infatti tuttora, tuttora mi piace. Meno male che ho trovato un marito che amava pure i miei viaggi, quindi abbiamo viaggiato. Nonostante tante cose che abbiamo, tanti momenti pure brutti dovuti alle malattie di mio marito, però superato quel periodo andavamo in viaggio dappertutto. Ci siamo veramente goduta la vita. Continuano a scorrere sul nostro monitor le immagini degli alunni che in qualche maniera hanno avuto modo. Questo è il modulo, però, le mie vecchie fotografie da maestra unica non le avete trovate. Abbiamo chiesto il gancio ad alcuni di questi studenti. Ne ho un paio io soltanto perché non si usavano tanto. All'epoca non si usava. Ce n'ho un paio però, erano molto numerose le classi di allora di 33-34 alunni con il grembiolino nero, mi ricordo, con il fiocco bianco. Le sorprese non sono finite, maestra, Paola. Eh sì, maestra, abbiamo un videomessaggio per lei, per te, abbiamo un videomessaggio per te, perché abbiamo utilizzato i social per questo messaggio, ascoltiamo. Ciao maestra, non so se mi riconosci, probabilmente no, è forse un bene. Mi costa tantissimo fare questo video, infatti inizialmente avevo detto di no, però siccome ci tenevo tanto a mandarti questo saluto, diciamo che poi ho accettato alla fine. Ma soprattutto perché oggi in ufficio si è venuta a creare una coincidenza particolarissima. Solo un attimo. Ciao, ciao Raffaella. Guarda, abbiamo avuto delle classi stupende insieme. E questa ragazza è una di quelle bambine che frequentavano quelle classi meravigliose. Ma è bellissima, io non la so riconoscere francamente oggi. Adesso ti saluto anch'io e mi raccomando, forza e coraggio. Ciao maestra. Ma mi dici chi sei però? Chi è questa? Chi si chiama Maria Pia? Maria Pia Shanna Metta. Ma Shanna è bellissimo, ma è diventata, è stata sempre bella, ma ora è irriconoscibile, veramente bellissima. Complimenti. E ti ha scritto anche un bel messaggio che poi ti consegni. Vediamo, vediamo. Lui si ricorda di quando c'è un aneddoto divertente. Un giorno dei primi anni di scuola elementare i miei genitori non arrivarono in tempo per recuperarmi all'uscita da scuola. E tu mi riaccompagnasti a casa con la tua indimenticabile 500 bianca. Tralasciando il fatto che oggi non potrebbe mai accadere nulla del genere, sappi che circa 20 anni dopo, quando ero indecisa sul colore della mia nuova macchina, ho ripensato a quel momento e così ho avuto anch'io la mia 500 bianca. E' principalmente te che devo ringraziare se oggi so raccontare ciò che vedo e ciò che sento e quello che sento in questo momento è gratitudine. E ci tenevo tanto che arrivasse a te con la speranza di rivederti presto, ti mando un forte abbraccio. Ma grazie Maria, grazie, grazie mille, bellissimo questo aneddoto qui. Sono tanti gli studenti che abbiamo anche sentito. Sì, 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 ieri appena la mia 500 se l'è venuta a prendere Giuseppe, mio figlio, nel garage. Ah, vedi. Perché è un cimelio di famiglia ormai diventato e se l'è venuta a prendere sarà sua. E sarà sua. L'ho amata molto quella macchina veramente. L'ho fatta rimettere a punto, però non l'ho guidata mai più una volta soltanto. Ho detto beh, inutile che me la tengo qui. Bene, maestra Raffaele. Allora, sì, Paola, noi purtroppo siamo quasi in conclusione di programma, oggi il tempo è volato. Io però vorrei chiederti, maestra, in un minuto, ti chiedo il dono della sintesi, di aiutarci un po' a capire quali differenze rispetto al passato ci sono nella scuola di oggi. Allora, su questo non saprei dire perché è da 25 anni che sono in pensione, però posso dirti quello che penso per la scuola futura. Che dovrà, secondo me, la scuola che è importantissima nella società, nello sviluppo della società, deve affrontare delle sfide molto grosse. Come ha detto già il maestro Russo, ci sono correnti di istigazione al razzismo, al bullismo, alla violenza. Tutte queste cose che si sentono purtroppo ogni giorno nel telegiornale, la scuola deve affrontare in una maniera molto, molto, molto drastica queste sfide qui. Attraverso la collaborazione con le famiglie e con lo Stato. Lo Stato deve fare la sua parte, ma anche le famiglie. Il rapporto scuola-famiglia è importantissimo. Oltretutto, fra poco ci sarà anche questo fatto dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Altre cose che per forza la scuola dovrà affrontare anche questo grandissimo, non è un problema, però questa grande evoluzione, cioè della scienza. La scuola deve cercare, ed è difficilissimo secondo me. Io auguro che ci sia molto successo in questo, però è una sfida abbastanza difficile secondo me. La maestra Merchionda è in pensione da 25 anni, ma sembra che stia ancora insegnando oggi, perché davvero il tuo stare sul pezzo, come si suol dire, è davvero straordinario. Lo voglio dirò, amato molto il mio lavoro. È un lavoro, però è un lavoro abbastanza difficile. Sembra facile, non è vero, perché si costruisce nella scuola la personalità dei futuri cittadini. La personalità, il modo di affrontare proprio la vita giorno per giorno nella società, ciascun cittadino, quindi, deve essere esempio all'altro secondo me. Certo. Deve credere nelle cose che fa. E questo la scuola può fare molto. Ultimamente, e poi finisco, perché avrei tante tante cose da dire, però ultimamente è stata trasmessa alla tv una serie bellissima intitolata Un professore, interpretato da Alessandro Gagelman. È stata una serie bellissima, secondo me, perché questo professore amava molto la sua professione, la faceva con passione, la svolgeva addirittura cambiando il destino dei propri alunni. E questa è stata veramente una fiction, secondo me, da far rivedere, perché è come un seme gettato da questo professore per gli altri professori, per gli altri insegnanti. Ecco, perché un poco di quell'esempio là basterebbe per far crescere una pianta, potremmo dire. Ecco, per dare l'esempio a niente. La ringraziamo di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi. Quando vuole sarà un piacere, la invitiamo. Lo so, devo dire la sincera verità, stanotte non ho dormito. Però quello è il battesimo del fuoco, basta venire una prima volta e poi... È stata una notte quasi insonne, perché mi piacerebbe molto parlare ancora di più della scuola e di tutto, perché d'altra parte non è una professione semplice, non è un mestiere. È una missione. È una vocazione. Non è una... sono frasi scondate, ma non sono scondate, non lo sono. C'è un'essenza di verità in questo. Il maestro, il professore, è un missionario. Perché ha a che fare con una diversità di individui, una diversità, e ce ne sono alcuni che non hanno alle spalle una famiglia nel vero senso della parola, che sono delle persone da far crescere veramente con amore, con delle piccole piante. Torneremo su questi argomenti, perché sono certa, maestra, che tornerà a trovarci. Grazie, grazie. Il battesimo del fuoco c'è stato. Ecco, c'è stato. Quindi ormai sa anche dove è la nostra sede. Grazie davvero di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi avermi invitato. Dobbiamo chiudere, sì, assolutamente. Dobbiamo chiudere. Grazie, grazie mille, grazie mille a voi. Grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi. Appuntamento a domani. Grazie. Grazie a tutti.